sulle braccia, sullo sguardo, non fate altro, aria fuori, giù le braccia e vento verso la gola. Ancora uno, prendi aria, sulle braccia, sullo sguardo, aria fuori, giù le braccia, vento verso lo sguardo. Rimani al centro e fai lo sguardo, ancora il tuo, prendi aria, guardo al centro, sulle braccia, aria fuori, giù le braccia, vento verso lo sguardo, prendi aria, sulle braccia, guardo al centro, vedi come un piracchide e assurdo le tagli, rimani verso il palimento. Stacca i glutine a terra ed inserisci la palla sotto la zona lo sguardo. La palla è fortemente sgonza. Prendi aria, e quando spingi, schiaccia bene la palla. Prendi aria, allunga, spingi il saltone contro il battiscopa. Aria fuori, ritorna. Prendi aria, ti allunghi. Aria fuori, ritorna. Prendi aria, allungati, ma quando allunghi la gamba, questa volta portavi anche il braccio destro e stesolo sulle gambe. La sensazione? La sensazione è... La sensazione è... La sensazione è... Ultima!